Allora ragazzi ciao, questo qui è un video in cui non ho potuto parlare in quel momento perché semplicemente ero in ritardo e infatti ecco qui controllo perché c'era Michele di là che mi aspettava e non voleva appunto che ritardassi quindi facendo il video un pochino di più magari ritardavo quindi non mi sono fatta scoprire, ho messo lì la videocamera che registrava e io zitta zitta mi sono truccata, quindi lasciate perdere se ci sono dei momenti un po' strani allora scusate mi sono persa, allora shadow primer potion dell'urban decaying come base poi un rosino chiaro che uso quello di madina, molto molto chiaro su tutta la palpebra ovviamente se non l'avete tanto chiaro vi consiglio di utilizzare il rosa che avete e poi di mettere sopra del bianco, infatti il rosa che utilizzo io non è proprio chiarissimo infatti in questo momento qui che non vi faccio vedere perché non potevo prendo un po' di bianco, vedete sul pennellino e lo passo sopra tutto lì almeno schiarisco un pochino il colore e niente praticamente ve l'ho detto non mi dovevo far vedere quindi insomma ho fatto tutto un pochino di nascosto e comunque volevo dire che questo trucco è una richiesta che mi avete fatto ah questo qui è sempre un ombretto di madina, li ho pagati 1,50 euro e preso con un pennellino molto molto fine, infatti io utilizzo quello a lingua di gatto come dite voi, che io mi termini molto più caserecci, casarecci, insomma dovete praticamente fare questa linea con questo colore più scuro che è un porpora, un magenta più che altro che parte da circa da metà occhio, tre quarti di occhio e che va allargarsi verso l'esterno, vedete? ecco vedete? dovete praticamente farla, ecco, abbastanza colorata, un pochino più scura così e poi prendete un pennello e sfumate sfumate un pochino, non deve essere una linea precisa, non è una linea di eyeliner comunque poi ne prendete un altro pochino di colore, intensificate intensificate il tutto e dicevo che questa qui è una richiesta che mi hanno fatto in tante ah e poi dovete fare praticamente un triangolo di colori più scuro dall'esterno verso l'interno sfumando ovviamente con rosa più chiaro, vedete? io qui cerco, cerco, nei miei andri del mio casino lasciate perdere ovviamente, ecco ho preso il pennellino d'eyeliner, quello angolato e preso il colore finito adesso eh date la vostra linea a modi eyeliner anche se non è proprio eyeliner, ecco tutto lì in tinta con la maglia eh oh i trucchi andrebbero fatti tutti in tinta con la maglia o con qualche accessorio comunque ecco qui invece ho preso il colore più chiaro e rosina che ho usato all'inizio e praticamente ho concluso il trucco concludendolo verso la linea, così il mio solito casino ma che no? allora te lo faccio anche a te no? dai amore va bene non è che ho abitudini così radicate ecco no nel senso se tu vuole che esce la lasciate io non l'apro mai eviti di spaccarmi l'armadio cattivo ragazzo ho finito, mi metto il blush e vengo ma lascia stare no, il blush va messo tanto più che son rosa oggi vai ci sono è strano vai ecco praticamente qua ho avuto appena appena il tempo di distrarlo un secondo tornare e spingere la videocamera e niente ragazzi ci sentiamo presto ciao 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 ragazzi allora ci tenevo a dire che questo è il trucco da cui ho preso ispirazione tra virgolette però non ho fatto il trucco proprio come era nella locandina perché l'ho un po' interpretato come piaceva più a me cioè l'ho allungato un po' più verso l'esterno e non l'ho lasciato soltanto sulla palpebra perché come vedete nella locandina non va per niente fuori dall'occhio perlomeno non si nota comunque spero vi piaccia comunque e basta comunque modificarlo lievemente se vi piace di più quello della locandina un bacio a tutte e grazie di avermi seguito ciao 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 bimbe